Musica Così un piccolo messaggio, so che è orgoglio Castelvetranese, sta organizzando per il 15 una manifestazione qui a Castelvetrano che si svolgerà con un corteo lungo il corso della via Vittorio Emanuele voglio aderire anch'io perché è giusto che tutti noi cittadini castelvetranesi diamo un contributo anche con la sola presenza a queste iniziative nella speranza di poter migliorare questa situazione che si perpetua a Castelvetrano ormai da anni quindi Gigi Semanella ci sarà senza dubbio il 15 gennaio e penso che anche voi ci sarete in tanti Io ci sarò il 15 gennaio per una Castelvetrano nuova Io ci sarò il 15 gennaio Ci sarò anch'io il 15 gennaio a farvi compagnia Noi il 15 gennaio siamo solidari a questa iniziativa Il 15 gennaio ci saremo a questa manifestazione Ci sarai Io ci sarò Io ci sarò Il 15 gennaio ci sarò Noi il 15 gennaio ci saremo Penso proprio così A volte complicata come una lunga corsa ostacolino Penso proprio di esserci il 15 gennaio perché mi interessa questa manifestazione E nelle difficoltà Se tu ci sarai Io ci sarò Io ci sarò Io ci sarò Io ci sarò Ciao c'è Io ci sarò Io ci sarò Grazie a tutti.